Con la vittoria contro i persiani inizia l'età classica greca. Temistocle di Atene e Pausania di Sparta volevano aiutare e difendere i greci dell'Egeo e dell'Asia Minore, che erano minacciati dai persiani. Temistocle ebbe il sostegno della città, invece Pausania no, quindi il comando della lotta contro i persiani, passa ad Atene. Dalla lega ellenica passa alla lega deloattica, con sede a Delo e la lega deloattica comprendeva 400 polis, contribuivano fornendo navi e con un tributo per finanziare l'equipaggiamento della flotta. Ora c'è l'Egemonia di Atene, dove gli alleati diventano sempre più schiavi e sudditi in poco tempo. Atene stabiliva un tributo in base alla ricchezza della città, stabiliva una politica delle alleanze, che Atene poteva decidere chi far entrare, ma non si poteva uscire, neanche con la forza. Nelle polisi stabili, invece, si mandava l'esercito, chiamati Cleruchie, e si riportava la pace. Poi c'è che Atene imponeva l'uso della dracma, che era la moneta di quel tempo, e in conclusione la lega deloattica era più uno strumento di potenza di Atene e meno per la lotta contro i persiani. Ora, la spartizione del potere fra Atene e Sparta. Sparta accentua il potere terrestre, con l'agricoltura e l'aspetto militare. Si estende nel Peloponneso, poi ha difficoltà di gestione con le rivolte con gli loti, e Argo si oppone. Atene, invece, diventa sempre più una potenza navale, si filuppa traffici nel Leggevo e nel Mar Nero. Poi Sparta aveva problemi, come abbiamo detto prima, con gli loti, quindi Temistocle, che era il capo dei democratici, voleva appoggiare gli loti per poi sconfiggere Sparta, invece Cimone voleva mantenere buoni rapporti e vince. Cimone, con l'ostracismo, caccia Temistocle da Atene. Poi porta avanti un'alleanza con Sparta e represse le polisse che si ribellavano. Poi nel 479 a.C. scoppia un terremoto in Laconia, che era vicino al Peloponneso era, quindi scoppia una rivolta con gli loti. Cimone voleva mandare 4.000 opliti in aiuto, invece Efialte no, mandano questi 4.000 opliti in aiuto e Sparta rifiuta questi 4.000 opliti, quindi fu una vera e propria umiliazione, quindi il capo dei democratici che era Efialte con un'assemblea attacca e cacciò con l'ostracismo Cimone.